Temo che Nardella le potrebbe dire che se vuole termoscanner nelle scuole ci converrà a prendere sto MES. Grazie Mirta, grazie per questa palla che mi alza perché è vero che le risorse del MES sarebbero immediatamente utilizzabili. Noi vediamo ogni giorno le difficoltà della sanità del territorio. In ogni caso non mi sarei mai aspettato di dovermi far difendere da Del Mastro sullo scarico a Barilla e ai sindaci, ma al di là della battuta ha ragione Gomez. Questa è una questione molto concreta. Io non mi sento di buttare la croce sul governo per questi mesi. Guardiamo gli altri paesi, Francia, Inghilterra, Germania, guardano l'Italia come un esempio. Sarebbe sbagliato, disonesto dire che in sei mesi non abbiamo migliorato tante cose. Il sistema sanitario è più robusto, ci sono delle terapie più efficaci. Però non è abbastanza, Nardella, mi scusi, perché le cose di chilometri dei tamponi non me le aspettavo, devo dire la verità. Questo è vero, infatti ci sono molte cose che ancora vanno migliorate, le code, la disponibilità dei tamponi, la prontezza anche nel far rispettare certi limiti di cui stiamo parlando. Però dire che siamo allo stesso punto di marzo io non me la sento di dirlo, non è così, lo vedo quotidianamente. Ci sono delle cose assolutamente sbagliate da correggere, il tema dei controlli, delle sanzioni è un tema secondo me cruciale. Se vogliamo evitare il secondo lockdown dobbiamo essere molto attenti a cosa vietare e a come controllarlo.